Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Chiudi, chiudi te, chiudi, chiudi tu Ah no, no, no Francesco! Francesca sei la MVP della serata Un applauso Chiudi Perfè, è perfè, è per... Un applauso Bravo Grazie mille, grazie mille E' piaciuto lo show? Ma stai prendendo l'emozione? Sfida! Oh, però porco l'ha azzeccato, scusami Punto a noi questa Allora prima io... Scegli Alexi 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 Non ho messo nessuna storia a Borro Eh lo so che è stata la serata ragazzi Si sente male però si vede Ah ma c'è la serata lui Eh sì ma dovevamo andare Dovevamo andare in serata? Eh sì Eh sì Ah ok 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 Dovevamo dirle basta Ah! 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 Pasquale È Pasquale! Eh Pasquale, è Pasquale Ma partita dei Poli Ma tu cazzo Ci queda... Oh Pasquale è più babbole d'Italia Pasquale Mas quale il primo babbole d'Italia Palazzo alla ragazza Pasquale Il mio sogno nella vita È diventare tipo il rosso Fai i soldi con il culo degli altri? No dai no, non per forza Francesca, tu stai chiamando? Ma sì, lo stai chiamando? Sì, così sta rilasciando conto lui Siamo in là che si muocchia, eh? Perché? Perché l'avo riconosciuta, ho detto, pensavo che ero una diva Quello avevo detto, ma che cazzo è? Ho detto, ma chi è? Ma perché sei così? Perché siamo in live, no? Perché devi... Bro, bro, siamo in live E c'è qua? Siamo in un negozio di... È un negozio Siamo in un palazzo di avvocati Famosissimo La live che non l'ho fatta, invece lui che è Michael Jackson Raga, sfumate risate Vi do pure importanza, guardate Oh, sfumate risate, non pedemi coglioni, vai Vai Coglione Fatto ridere, bro Fatto ridere Ah, ok, meno male Fate... Fate una cosa, ragazzi Fate spam di... Tanto mi ascoltano Alexi, 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 Alexi Alza le mani, 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 se ti chiameresti Martina, trinca nel culo Come fa Alexi Alexi come FA Eh? Come cosa? Come F? Come F cosa? F cosa? Sta dicendo che sono F? Aspetta, 57, 64, Alexi, arrivi Ho paura di che sia un nuovo ban Occhio, è arrivato quel momento, ragazzi Silenzio! Si parte! Alexi, vai! 3, 2, 1, via Occhio! 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 Ohcchio! Occhio! Occhio! La simpatia Quindi tu merece un simone, un rosso o un simone berlini La simpatia è il meglio della bellezza Sì Quando prendi un milione e mezzo all'anno vero Io non c'è No, devi ricordare che prende tre Ne prende tre Chiunque la diretta ha ragione Ma Bello Posso dire Mamma mia I messaggi che fanno bene Cioè quindi tu ti definisci Ecco, guarda Tre shot Scusatissimo Questa è la prima volta che la vedo Scusatissimo Questa è la prima volta che la vedo Virginia Sì Questa è stata la prima interazione Vabbè, questo è lei che ci prova con lui E poi Qua lui face un po' il fuckboy Lei che deve baci Lei che deve baci E poi facciamo Oh 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 Stop 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 Io mi dissocio completamente da tutto ciò che è successo Stop perché ho fatto il salvaggio dell'anno No C'era una E piango spesso Quindi faccio fatica a fare dei discorsi che sei stato in questo momento Perché è un'emozione forte Per voi può sembrare una cazzata Però con il lavoro che c'è dietro È un momento È un momento importante per me Poi Poi nulla La ripeto di potter L'ho massacrato Ciao Ho raggiunto per la prima volta 10.000 abbonamenti Complimenti Ti ho visto Ti facciamo i complimenti Soddisfazione a mille E niente Mi fai commuovere Ti vogliamo bene Pronto? Ti ho perso Ci sentiamo Ciao 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 Basta? E basta Ma fai vedere Ok Allora Se andate a vedere la mia storia Vedete tutti i tag necessari per il tag del podcast Il vincitore del podcast Adesso il primo che si farà rispondere da Matteo Salvini Riceverà il podcast originale Firmato da me Il Rosso Alexi Fu bello Firmerà col naso Valerio Camilla Depandis Rebecca Parziale E anche Spider-Man Un uomo? No Che cazzo è? Poi è un uomo No Posso dire che è? Chi è? Faccio vedere Ma chi è? È un uomo Cosa? Brava Ma ti capisci è questo Allora aspetta Abbiamo fatto la storia Gifted by Un secondo Vabbè Sciallo Sto di frattina Fregando È la squadra vincente Due a uno Non l'ho rinnovinato Nessi neanche una parola Calma Allora Calma un attimo ragazzi Perché La prossima sfida è interessante Perché non è partita La sfida Della sfida Facciamo partire È la coppia che esplode Adesso vi spiego perché La coppia che esplode È un bellissimo Un bellissimo format Vai Eccolo qua Che non c'è la sfida La coppia che esplode Eh Il titolo È un bellissimo